Ben trovati a voi tutti ad una nuova puntata della Voce delle Istituzioni, abbiamo il piacere di avere con noi in studio Paolo Doglioni che è il Presidente di Confcommercio Belluno, ben trovato Presidente, grazie per essere qui con noi per parlare di un po' di temi che riguardano la vita della vostra associazione, ovviamente siamo nel pieno dell'estate, quindi come non cominciare Presidente parlando proprio della stagione turistica, come sta andando? Il caldo ci aiuta sicuramente, questo gran caldo da sempre fa sì che la gente si sposti in montagna. Dobbiamo dare dei servizi adeguati e speriamo veramente che questo PNRR possa aiutare le modifiche insieme anche a tutte le migliorie che arriveranno grazie alle Olimpiadi del 2026. Detto questo, la stagione, da quello che mi risulta, sta andando piuttosto bene, in maniera particolare per gli stranieri che arrivano in numero consistente rispetto agli anni passati, vuoi per il Covid, vuoi per altro. Le Dolomiti continuano ad essere attrattive? Direi che le Dolomiti, poi teniamo presente che le Dolomiti per il 70% sono in provincia di Belluno, quindi sono attrattive e lo diventeranno ancora più grazie a tutte le manifestazioni, quelle che sono state e quelle che verranno. Ci sono comunque delle criticità, come è ovvio, da affrontare e una di queste che si trascina ormai da tempo è la carenza degli stagionali, Presidente. La carenza degli stagionali, noi abbiamo sollecitato moltissime volte quella che deve essere uno sblocco dei flussi migratori. Il problema è anche la denatalità, teniamo conto questo, non facendo più figli noi dobbiamo avere una prospettiva a 20 a 30 anni e quindi dobbiamo importare della gente che voglia lavorare qui da noi, dando a questi delle regole precise, devono avere la cultura, la conoscenza delle lingue e il modo di abitare che abbiamo noi. Lo dico sempre anche da appassionato di storia, siamo tutti degli immigrati e quindi la generazione dopo di quelli che arrivano la prima volta sono tutti gli effetti bellunesi. Devono rispettare le leggi, devono avere la nostra cultura e avere una professionalità, ma questo sarà inevitabile che avvenga. Però il problema continua ad esserci e poi ad essere comunque merce rara, possiamo dire così utilizzando una parola un po' forte, ma comunque sono le differenti professionalità che ruotano attorno all'ambito turistico, mancano banalmente camerieri, operatori di sala, cuochi, giusto? Ecco che l'ITS che dovrebbe partire in camera il commercio, il TS, turismo potrebbe dare delle risposte a questo, perché abbiamo bisogno in un turismo delle professionalità, non ne occorrono tante, ma delle linee guida. Il turista di oggi non è il turista di 30-40 anni fa, ha dei termini di paragone, noi dobbiamo dare eccellenza, solo con l'eccellenza si vince. Anche perché davanti a noi c'è la grande partita del 2026. Sì, noi ne parliamo sempre di questo 2026, sarà sicuramente una piattaforma che ci metterà conosciuti in tutto il mondo, ma può avere anche un risvolto negativo, nel senso che se non ci presentiamo bene non facciamo un servizio, ma abbiamo un problema, perché la gente dirà non hai fatto, quindi prepariamoci bene con piccoli passi. La piramide non è fatta da un monolite, ma da piccoli sassi, da grandi sassi uno sopra l'altro. È la stessa cosa che dobbiamo fare per il turismo, ognuno cerchi nel piccolo di rendere accogliente e attrattivo il punto dove si trova. Non parlo solo di alberghi, di ristoranti, di bar, parlo di tutto il territorio, perché è il territorio che fa turismo. E qui su questo ovviamente si innesta tutta la questione dei servizi, delle infrastrutture, i tanti temi che compongono quel puzzle di cui appunto lei sta parlando. Senta, ma la professione di albergatore è ancora oggi un mestiere attrattivo, Presidente? È difficile, è difficile. È un mestiere complicato che può diventare interessante nel momento in cui c'è una resa anche economica. Ma quando questa viene meno, vuoi per tassazione, vuoi per difficoltà, vuoi anche per pandemie varie, allora diventa tutto più difficile. Il costo dell'energia oggi, che è diventato spaventoso in maniera particolare negli alberghi, che deve farci pensare. Ci deve essere veramente un aiuto, se vogliamo che il nostro territorio, ma tutto il territorio italiano, possa avere degli alberghi e possa avere una continuazione. Io non credo molto nelle strutture, nelle grandi strutture, nelle catene, perché le catene non sono radicate nel territorio come lo possono essere i nostri albergatori. Ecco, senta, venendo in particolar modo a Cortina, parlando sempre del mondo degli albergatori, c'è stato di recente un cambiamento al vertice proprio dell'Associazione degli Albergatori. Sì, Roberta Alverà, che era la Presidente, è diventata Vice Sindaco, quindi non poteva più esercitare le doppie funzioni, ammesso l'avesse voluto. E quindi è arrivato un nuovo albergatore, legato poi tra l'altro a Confcommercio Belluno, da accordi ormai ultra da decenni. Credo a breve noi andremo a trovarlo insieme al Direttore e mi auguro veramente di instaurare con il nuovo Presidente un ottimo rapporto come lo avevo con la Roberta Alverà. Ecco, Cortina, che è comunque una delle località principalmente turistiche della provincia, che considerazione possiamo fare? Che è un posto meraviglioso, deve avere forse un cambiamento proprio strutturale, ma il posto è meraviglioso. Ho avuto la fortuna di girare tutto il mondo e quello è uno dei posti più belli montani che io abbia mai visto. Senta Presidente, cambiamo adesso un po' la riflessione, un altro tema. Questo è anche, veniamo al settore moda, quindi Federmoda. Questo è il periodo dei saldi, siamo nella stagione estiva, quindi ci sono i saldi di fine stagione, sono riprese anche le manifestazioni principali, sia a Feltre che a Belluno, quindi giovedì di sera e venerdì di sera. Per questo comparto che considerazioni possiamo fare? Qualcosa si sta muovendo. Vorrei fare due distinguo. Il settore moda è uno di quelli che ha sofferto di più per la pandemia e anche questo va aiutato perché non si può pensare di fare la moda con l'online. La gente quasi sempre ha piacere di un contatto umano. Le manifestazioni, bene che siano partite, bene che con le amministrazioni di Belluno e Feltre i nostri rappresentanti abbiano un dialogo proficuo. e quindi speriamo, io sono sempre ottimista, speriamo che ci siano anche gli acquisti, tenendo presente due cose. Una è un dato allarmante, circa 10 milioni di italiani, secondo le statistiche, sono a livello di povertà pura e quindi non possono fare tanti acquisti. E il secondo è che il mondo cambia velocemente e dovremo anche noi, con commercio, cominciare a cambiare velocemente. Un approccio proprio col consumatore, che è un consumatore moderno, che aspetta tutto quello che di nuovo c'è nel mercato, compreso l'online, che possiamo fare anche noi ed è per questo che noi stiamo lavorando con i nostri associati su questo. Certo è che il nodo dell'inflazione pesa, comunque, sia per l'utente finale che ovviamente per l'esercente. Un 10%, 9-10%, erano anni che non c'era una situazione del genere. L'inflazione per il commerciante può essere anche una cosa positiva, ma QB, come il sale, quanto basta. Quando supera quel QB, allora diventa problematico. Ecco, Presidente, tra gli anniversari, le ricorrenze importanti in provincia che si sono celebrate di recente, e che l'hanno vista partecipe in prima persona, vi è anche quella della decennale, per esempio, della Bar Bianco di Busche, della Latte Busche. Lì si è creata una situazione importante anche per la vitalità del commercio in provincia di Belluno. Sicuramente sì, è una delle aziende territoriali che a me sono più simpatiche, perché lavorano nel territorio, per il territorio e con il territorio. Senza Latte Busche non si avrebbe avuto tante cose. Un'immagine, anche questa nel mondo, il piave e non solo. Un appello che io mi permetto di fare, acquistiamo i prodotti di Latte Busche, sono buonissimi, sono nostri, danno da vivere al territorio, ai nostri agricoltori e al turismo, perché il turismo si fa anche con queste cose, con i prodotti locali. Non si spediscono più cartoline, si porta a casa un pezzo di territorio. Latte Busche è l'esempio di questo. È trainante, è stata trainante anche quando ero presidente della Camera di Commercio con la strada dei formaggi e dei sapori delle dolomiti bellunesi. E guardate che questo vuol dire identificarsi in un territorio. Noi che viviamo in questo territorio dobbiamo, in tutti i modi, sostenere quelle aziende come Latte Busche. E, diciamo, l'esperienza, quella che è l'esperienza propria del turista è stata analizzata anche in un convegno, in un momento di formazione che voi avete tenuto il primo luglio proprio in sede camerale. dalla destinazione all'esperienza alle montagne di oggi per il turismo di domani, presidente. Sì, è stato uno degli appuntamenti che Commercio Nazionale ha voluto fare a Belluno. Che io ho chiamato, l'ho detto anche a Roma, Belluno è la capitale delle dolomiti o perlomeno deve diventare la capitale delle dolomiti. E quindi facciamolo qui. L'abbiamo fatto con degli partecipanti di tutto rispetto i quali ci hanno fatto vedere uno spaccato del turismo di quello che è stato, di quello che è e di quello che dovrà essere. Ecco, è su quello che dovrà essere che noi dobbiamo lavorare. Quali le sfide principali, presidente? Guardi, intanto la stagionalizzazione, il capire che il periodo estivo è importantissimo per il nostro territorio e quindi dare dei servizi adeguati con corsi professionalizzanti che passano dal prodotto alimentare al tempo libero a tutto quello che gira intorno al turista. Il turista oggi è come un bambino, va tenuto occupato sempre. Deve essere un po' coccolato quindi, capiamo. È coccolato e noi siamo in un punto fantastico perché qui da noi in un battibaleno si arriva a Treviso, anche a Venezia chi vuole poi torna a casa al fresco. Al fresco. E in questo periodo credo sia un valore aggiunto. Ecco. Quindi, presidente, diciamo l'auspicio anche per questa stagione qual è il suo auspicio? Che si vada d'accordo, si lavori assieme. Solamente lavorando assieme e andando d'accordo si crea economia e ricchezza per il territorio. Bene. Allora, presidente, come sempre io la ringrazio. Noi abbiamo toccato alcuni dei temi delle attività che riguardano la vita della vostra associazione. Buon lavoro a lei e a tutto il suo staff. Grazie. A tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto. Arrivederci. Grazie.